L'Aquila fa suo il derby contro il San Nicolò 4-3 per la formazione in rosso-blu al termine di una gara emozionante e con coda polemica negli spogliatori. Nel post-gara infatti vola forse qualche parola di troppo. Il presidente del San Nicolò, Salvatore Di Giovanni, e l'allenatore dell'Aquila, Pierfrancesco Battistini, batti e beccano per diversi minuti, ma alla fine la situazione rientra. Match tra due squadre con obiettivi completamente differenti. Biancazzurri a caccia di punti salvezza, l'Aquila invece a caccia di punti playoff. Con Battistini che vara il 3-4-3, con Boldrini, De Iulis e Padovani tridente d'attacco, mentre dall'altra parte Montani rispolvera Di Benedetto dal primo minuto e dà ancora fiducia a Tiboni. Fiducia che verrà ripagata nel corso del primo tempo, ma in avvio di gara è Boldrini a sfiorare il gol del vantaggio, con Cannella che riesce ad opporsi al tentativo da parte del numero 10 Aquilano. Ad andare in vantaggio è invece il San Nicolò con Tiboni, che al decimo è più rapido di tutti sul secondo palo a raccogliere un cross e siglare il primo gol in maglia biancazzurra. La risposta della formazione di Battistini arriva 5 minuti più tardi, quando Mozzoni dà di fatto modo a De Iulis di rispondere a Tiboni e siglare anche egli la prima rete in maglia rosso-blu. Il gol del pari mina qualche certezza della squadra di Montani, che si trova di fronte Aquilani subito aggressivi quando si tenta di impostare. Sarà ancora l'Aquila a farsi pericolosa in due occasioni prima di rientrare negli spogliatoi. Al 38esimo Padovani non riesce ad inquadrare lo specchio della porta, ma a raccogliere un cross passo dalla sinistra. In pieno recupero invece De Iulis a sfiorare la doppietta con un colpo di testa che termina di poco a lato. L'inizio ripresa è ancora a tinte rosso-blu. Padovani fa tutto solo in ripartenza, porta palla al limite dell'area e fa partire un tiro che trova una deviazione forse fondamentale per il San Nicolò. E' ancora Tiboni a rispondere per i biancazzurri, ma l'attaccante servito dall'Aquilano Petronio non inquadra la porta nonostante la difesa rosso-blu si faccia cogliere per un attimo impreparata. In meno di mezz'ora però la gara cambia volto a più riprese. Mozzoni è furbo ad approfittare di uno scontro di gioco, raccoglie il pallone e si invola verso la porta. Il tiro, con tocco inutile di Farroni, porta di nuovo avanti il San Nicolò. Due minuti più tardi però è ancora De Iulis. L'attaccante rosso-blu, finalmente protagonista, svetta più in alto di tutti in area per il gol del pareggio dell'Aquila. Un minuto dopo Boldrini si lamenta di un contatto in area di cui è protagonista, ma il direttore di gara lascia proseguire. La noia è molto lontana dall'ex castrum di Giulianova e la nutrita presenza ospite esplode nel vedere Boldrini far partire un destro dalla distanza ed insaccare alle spalle di Cannello un gol da Cineteca che porta per la prima volta avanti il rosso-blu. Il San Nicolò però è vivo e lo fa vedere al ventunesimo quando Bontà raccoglie un cross dalla sinistra per berfare la difesa ospite e fissare il risultato sul 3-3. Le emozioni della prima mezz'ora però della ripresa non sono ancora finite e trovano il nuovo sfogo quando Sieno infila ancora Cannella anticipando la difesa biancazzurra per portare avanti di nuovo l'Aquila. Montani prova a cambiare qualcosa inserendo tra gli altri anche Moretti e Chiacchiarelli, ma il San Nicolò accusa il colpo dopo il gol che sarà la fine decisivo di Sieno. I biancazzurri nel recupero rimangono anche in 10 uomini per il secondo giallo a Bagaglini. Finisce con l'Aquila che festeggia per dei punti chiave in ottica playoff e con il San Nicolò che dopo la sosta proverà a ricominciare la marcia a salvezza. Non è caduto nel finale di gara? Niente, niente, niente. È finita la partita e abbiamo festeggiato con la squadra perché è una vittoria per noi che ci hanno dei falliti, per noi che ci hanno... È una vittoria molto importante, è una vittoria dello spirito, è una vittoria dei ragazzi che non si arrendono e lavorano, che lavorano nonostante tutto. Ragazzi onesti. Quindi c'è stata grossa gioia per questa vittoria, i ragazzi hanno voluto regalare per il primo anno di permanenza all'Aquila che scatta oggi proprio, quindi hanno fatto il regalo di una prestazione molto bella. Peccato, peccato aver concesso tre gol davvero su tre situazioni leggere perché se rischi di non vincere una partita con tre gol fuori casa, dove hai mantenuto il pallino del gioco per 80 minuti almeno, sarebbe stata dura. Però detto questo siamo felicissimi della vittoria, siamo felicissimi della partita, è giocata su un ottimo campo, questo mi dà ancora più convinzione su quello che pensavo. Ho voluto fortemente s'anticipo a Castrum apposta perché sapevo che potevamo giocare in questa maniera su un campo sintetico che ci dava l'opportunità di mettere in mossa i quali a tecniche che sono venute fuori oggi. Avete vissuto di nuovo una settimana non facile ma ci si fa mai l'abitudine? Boh, te lo dirò quando finirà. Detto questo noi abbiamo sempre cercato di concentrarci sul nostro lavoro. Quello che la gente non capisce anche quando ci dà dei falliti, quando ci tanto fallite, tanto sparite, tanto contate niente, perché magari da altre parti ci sono difficoltà, è che noi siamo attaccati al nostro lavoro in maniera clamorosa. E quindi anche se sentissi insulti, queste cose da queste persone che non capiscono cosa vuol dire stare a lavorare in queste difficoltà, facciamo fatica a prenderceli. Anche a goderci magari una vittoria su una partita corretta, bella, tatticamente interessante. Un po' ci dispiace per questo perché alla fine credo che la vittoria sia stata netta e meritata. È una squadra che forse l'ha meritata giocando a calcio, non facendo mai l'ostruzionismo, provando a giocare ogni volta palla a terra. È tutto dove esce a campo non sentendosi di che siamo dei falliti, che stiamo fallendo, che tanto spariamo lo stesso. Anche perché io non credo sarà così. E credo che la prima cosa che abbiamo imparato nel calcio è il rispetto anche dell'avversario e di chi ha difficoltà oggettive. Mister, due volte avanti e poi quel gol di Sieno nel finale probabilmente vi ha tagliato le gambe. Sì, è una partita che secondo me fai fatica a commentare perché è stata, penso che il pubblico oggi si sia divertito abbastanza. Siamo stati in partita sempre contro una squadra forte, lo sapevamo, grande palleggio, giocatori di qualità. Ma i ragazzi hanno dato tutto anche oggi. Forse in qualche occasione siamo stati un po' polletti, tra virgolette, però come sempre gli episodi nel calcio fanno una differenza. Anche oggi purtroppo sono venuti contro. L'abbiamo ripresa, siamo andati in vantaggio, in svantaggio. Abbiamo fatto un po' tutto noi, però non eravamo, come si dice, fenomeni domenica scorsa con la di Sina e non saremmo brocchi oggi. Ci rimbocchiamo le maniche, c'è la sosta e poi prepareremo con calma l'altra partita. Guarda, gli errori singoli poi sicuramente quando c'è un gol c'è l'errore da parte di qualcuno. Poi martedì ne parleremo con calma negli spogliatoi. È chiaro che, come dicevo prima, siamo stati in qualche occasione dei polletti, ma, ripeto, ci può stare che qualche volta sbagli. Essere castigato ogni volta che sbagli è una cosa che veramente ti lascia l'amore in bocca, però vuol dire che dobbiamo essere bravi e sbagliare il meno possibile. Questa sosta dopo una sconfitta è una cosa positiva o negativa? Secondo me è indifferente perché noi non veniamo da un periodo brutto, anzi, veniamo da un buon periodo con risultati, vinciamo, perdiamo, vinciamo, perdiamo. Una squadra sta bene, sta giocando e quindi forse è una sosta che ci fa un po' recuperare. Fa bene a qualcuno, oggi avevo una persona in panchina che non era disponibile. Recuperiamo le forze e viene secondo me al momento giusto per quanto riguarda l'aspetto fisico.